Una boccata ad ossigeno. Arrivano i primi soldi del prestito ponte erogato dalle banche. Prima rata di 125 milioni entro il 12 settembre, la seconda di pari importo entro la fine del mese. E così fra sette giorni gli oltre 10.000 dipendenti diretti dello stabilimento di Taranto riceveranno regolarmente lo stipendio ed anche la rata trimestrale del premio di risultato. Il prestito servirà anche ad onorare almeno in parte il debito contratto con le aziende dell'indotto che da mesi non riescono a pagare gli stipendi ai dipendenti. Comunque una toppa ad una situazione di grave crisi produttiva e finanziaria ma il governo ed in prima persona il ministro Federica Guidi è impegnato a difendere la siderurgia italiana ritenuto settore strategico dell'economia nazionale. I prossimi passi saranno verso l'accelerazione della trattativa con possibili acquirenti, primi fra tutti i franco indiani del gruppo Arserol Mittal. Intanto a Taranto è in corso un doppio sciopero, quello dei dipendenti diretti fatta esclusione nei reparti che garantiscono la sicurezza dell'impianto e quello delle imprese dell'appalto. Scioperi proclamati ieri immediatamente dopo la morte di Angelo Iodice, il geometra della Global Service, la ditta Campana che stava ripristinando i binari danneggiati dal deragliamento di un Noghisa il 27 agosto scorso. Sull'incidente mortale è aperta un'inchiesta della magistratura ionica coordinata dal procuratore della Repubblica Franco Sebastio